Questo laboratorio è un progetto nato un anno fa, in cosa si concretizza? Allora, il laboratorio è la realizzazione di un sogno, io da sempre amo l'arte e quindi dopo i miei studi accademici ho desiderato vivere di arte e grazie a questa associazione culturale non solo insegno ma trasmetto l'amore per l'arte a tutti i miei studenti, dai più piccoli ai più grandi e per questo li ringrazio. Hai definito, abbiamo chiacchierato un po' prima di questo incontro, questo percorso una missione sociale, cosa intendi esattamente? Sì, allora per missione sociale intendo dire che non tutta la gente che entra in laboratorio possiede già di base un talento artistico ma il laboratorio è aperto a tutti, a chiunque voglia anche solo rilassarsi oppure semplicemente passare del tempo creativo e questo poi ha dei riscontri, ha dei benefici psicologici sulla nostra vita molto importanti. E tu mi raccontavi che hai potuto constatare proprio effettivamente da un feedback delle mamme, di alcuni bambini più piccoli anche un riscontro positivo. Sì, allora devo dire che le famiglie mi hanno dato questo feedback positivo per quanto riguarda i miglioramenti dei bambini per esempio nella scrittura a scuola, ma non solo, anche il distacco che ricevono dagli apparecchi tecnologici perché magari tornano a casa e invece di chiedere il solito tablet chiedono alle mamme di poter disegnare, colorare, dipingere e questo è molto importante per il loro sviluppo cognitivo, per la loro creatività, l'accrescimento della loro autostima. E' interessante anche perché il rapporto è one to one, nel senso che tu cerchi di capire le loro attitudini e di conseguenza ti rifuri la personalità. Sì, allora anche se la lezione è di gruppo, comunque io cerco di dedicare un tempo appunto uno ad uno ad ogni allievo in modo tale che ognuno di loro scopra attraverso l'arte un percorso personalizzato e quindi con alcuni per esempio facciamo solo fumetto, con altri sfera dell'arte, con altri spaziamo delle varie tecniche pittoriche e questo è stimolante e divertente. Tante le proposte, in futuro ci saranno i laboratori natalizi, però è previsto anche un progetto su Andrea Pazienza perché è importante far conoscere anche una bella realtà che Sansevedo sa raccontare e può raccontare. Sì, per me è molto importante dare valore agli artisti della mia città e quindi è una proposta che farò ai miei allievi per Natale spero che verrà accolta, ma penso proprio di sì, quindi mi farà molto piacere dare onore ad Andrea Pazienza. L'evento inaugurale di questa sera insomma è anche arricchito da un allestimento di una mostra 36 opere d'arte di 19 artisti diversi, allievi, li chiamiamo artisti, perché ecco, abbiandoci alla conclusione Natascia il messaggio deve essere questo, la creatività appartiene a tutti, bisogna trovare il modo per esprimerla proprio attraverso la pittura e il disegno, non bisogna essere artisti e talentuosi per frequentare un corso di pittura. No, no, assolutamente no, infatti mi è piaciuto tantissimo in questa esposizione mixare le varie fasce d'ità, infatti la lieva più piccolina a 4 anni è quella più grande 53 e per me è stato divertente appunto vedere come nell'arco di un anno abbiamo realizzato tutte queste opere tutte diverse, perché fanno parte della loro personalità. Quindi vi aspettiamo su Corsa Media d'Aosta al Civico 19 al NV Lab.